Sono tanti politici che vendono fumo, io lancio l'erba. Questa campagna elettorale ho voluto cominciarla lanciando cannabis da una piazza di spazio perché noi vogliamo dire con questa mia candidatura, con la mia elezione al Parlamento Europeo che la cannabis è meglio legale, che tanti fenomeni è meglio far emergere dall'illegalità alla luce per il bene dei cittadini, per la lotta alle magie e anche per una democrazia più sana.